Oggi siamo tornati su The Hunter Classic, questa volta qui in Loggers Point E come sapete sono appena finite le missioni della Summer Fiesta Quindi oggi siamo qui per una caccia normalissima E non ve l'avevo ancora mai detto ma è da un po' di tempo, all'incirca una settimana Che sto giocando veramente tanto The Hunter Classic Perché vorrei darmi da fare a cercare un po' di trofei E soprattutto delle specie di cervi In questo caso qui in Loggers Point ci sono i cervi coda bianca e i cervi muli E il mio trofeo principale che vorrei cercare è un coda bianca da 200 di punteggio se non di più Ora so che un coda bianca da 200 di punteggio è probabilmente uno degli animali più rari di questo gioco E quindi per trovarlo mi dovrò dare veramente tanto da fare Ma magari prima o poi abbiamo questa opportunità di poter prendere un coda bianca da 200 E questa opportunità magari è già anche oggi ma non lo sapremo Fino a quando non esploreremo effettivamente tutta la mappa Quindi mi trovo appunto qua in Loggers Point E come al solito mi trovo in Multiplayer Voglio cercare di fare tutta questa tracciata che sto facendo Ovvero arriviamo fino a questa torre qua E poi ci teletrasportiamo nella loggia qui sotto E andiamo un po' ad esplorare tutta la mappa E anche perché i cervi qua si trovano in tutta la mappa Quindi bisognerà ovviamente fare un bel giro E direi di iniziare senza averci troppo in chiacchiere Non so sinceramente cosa sta succedendo perché Penso sia una delle mie cacce più strane qui in Loggers Avevo questo gruppo di muli che stavo seguendo Con uno da 135 kg massimo che penso sia lui E un altro da 140 kg massimo che è il peso massimo per i cervi muli Ora sono tutti allertati perché ho fatto scappare questo gruppo di maschi Che purtroppo stavo seguendo già da un bel po' di tempo E alla fine non so come ma mi hanno sentito da anche parecchia distanza Ed ero accorciato Ora lui si sta avvicinando molto velocemente Quindi ecco Penso che non so come ha fatto non vedermi Ma ho fatto in tempo a tirare la freccia quindi Meno male E quindi qua abbiamo Uno di quelli che stavo seguendo effettivamente Che è un gruppo da 3 1 punto è questo Ma non è il più grosso penso 128 e questo gruppo l'ho iniziato a seguire da qua sopra Io letteralmente sono arrivato qua Ho trovato le tracce e dovuto seguirli fino qua giù Perché poi ovviamente come ho detto li ho fatti scappare E ora da qualche parte dovrebbe esserci anche il peso massimo Quindi è questo l'unico motivo per cui sto ancora seguendo questo gruppo Ovvero perché c'è una stima di peso massimo E vediamo qua se riusciamo a vederlo E sono ancora qua perché stanno arrivando altri due maschi Uno è questo qua che sta arrivando che è lo stesso che c'è nel gruppo del peso massimo Ed è un maschio parecchio piccolo questo Ok dovrebbe Essere molto sul corpo E ne abbiamo un altro che ci ha richiamato dalla sopra Che penso sia calmo Anche se pure quello L'ho già fatto scappare una volta Se è sempre lo stesso Mi ha detto che ho riscoperto la traccia Ed è l'unico di cui ha ancora un pallino Quindi probabilmente lui E vediamo se arriva Penso che sia calmo ma Non ne sono così sicuro Comunque Qua abbiamo un maschio Che è lo stesso che c'era nel gruppo appunto del peso massimo Niente di eccessivo Ovviamente 55 punti E minuscolo E tutte queste tracce qua sono gli cervi mulio Io non so che sta succedendo qua sotto Ma ci sono una cosa come 5, 6 o 7 femmine Un bel po' di maschi Anche se ancora non ho scannerizzato tutte le tracce E là sopra abbiamo il maschio che sta arrivando E' un po' meglio quello forse Anche se il palco non è enorme Comunque Da 125 a 220 Quindi sicuramente più grosso di tutte quelle che abbiamo preso fino ad ora E aspettiamo che arrivi Ed eccolo qua Sta arrivando Tra l'altro Ha un palco anche molto carino Ha un po' di Piccole punte In giro Per il palco Che lo rendono molto carino Anche se ovviamente non è Un atipico Quindi Eccolo qua Dovrebbe essere una distanza buona Vediamo di prenderlo Tra l'altro Mi sono portato come vedete lo snack bite Perché è l'arco più silenzioso del gioco Che In questa mappa è fantastico Dato che ci sono i gruppi di cervi mulio E Proprio perché sono dei gruppi E' ottimo avere un arco che fa anche poco rumore Così da Non far spaventare Altri muli che magari sono dietro di un altro maschio Quindi Confermiamoci questo Che è super carino 120 kg 135 di punti Vorrei provare A vederlo un po' meglio Se si riesce E come vedete Ha tutte queste Piccole punte Qui su Qua sotto E anche una qua dietro Questa Che lo rendono super carino Quindi Ovviamente Non è un atipico Ma Anzi Quelle punte lì Gli hanno tolto anche un po' di Suo punteggio E ora devo ancora trovare Il peso massimo Quindi Devo Cercare di seguirlo E Penso di aver trovato il nostro peso massimo Anche se non so perché Ma non penso che sia lui E Da 75 A 115 kg Ma la stima Della traccia Dada 95 A 140 E Non penso che possa Effettivamente Da Avere Un peso più basso Del minimo Della traccia E Ovviamente Non ne sono sicuro Però la traccia che C'è lì E dove lui è passato E ha lasciato La traccia del peso massimo Quindi Non so Potrebbe essere lui Ma forse no Perché me ne ha richiamato un altro E Ci metterà un po' L'andare giù Ma mi sa che lui Perché Continua a lasciare tracce Forse lui invece Può darsi Perché effettivamente Non penso che possano avere Un peso più basso Di quello che la traccia stima Però non lo so Almeno per Che se non mi è ancora mai capitato Quindi Proviamo A prendere La traccia Vediamo Vorrei vedere Il peso Più che altro 75 115 Quindi mi sa che non è lui Forse C'è data bene Non è ancora lui Meno male Anche perché Altrimenti era parecchio piccolo E quindi Dobbiamo continuare a richiamare E provare a vedere Se arriva Effettivamente Il nostro Vero peso massimo Che ormai È da Più di un'ora buona Che lo sto seguendo Quindi speriamo Che gli sia varsa La pena E mi sa che anche questo Non è il nostro Peso massimo Mi sa che il nostro Vero peso massimo Era quello di prima Forse era meglio Se lo lasciavo stare Perché Perderci un'ora Per quel tipo di cervo Non era proprio La cosa ideale Ma E Purtroppo è così E De hunter classic Non è che si può sempre Purtroppo Prevedere E Dovrei provare a prendere Col 243 Visto che non voglio Per perdere molto tempo Ma Ecco da qua Forse riusciamo Dovrebbe essere buono Ovviamente ci metterà Un po' andare giù Ma Forse doppio polmone Se ci nota bene Ed è giù lì Perfetto Quindi Colpo decisamente vitale E Vediamo ora Di Confermare Questo qua Che abbiamo preso Con l'arco Che penso sia effettivamente Il nostro peso massimo E nel caso lo scopriamo Se scompaiono le tracce Quindi Vediamo Ed eccolo qua Quindi Vediamo se Nel nostro peso massimo Effettivamente Perché nel caso Avere una traccia di peso massimo E avere Un cielo 143 Non mi sembrava così grossi In realtà Comunque Se era questo Alla fine Come peso massimo Non era poi Così Incredibile Lì le tracce sono scomparse Ma Non sono quelle Che avevo prima Quindi L'intenzione Di prendere Soprattutto Coda bianca Proprio per cercare Un coda bianca Da 200 di punteggio E finalmente Qua davanti Abbiamo Un primo Coda bianca Anche perché Altrimenti Prima ci eravamo persi In 3750.000 Cervi Nudi Quindi Qua abbiamo Il primo Coda bianca Che tra l'altro È fantastico È un 6x6 Ed è per questo Che ha Un punteggio Non troppo elevato Peccato perché Se fosse stato Anche solo Con un paio Di punte in più Sarebbe stato Enorme E così E giù sul colpo E tra l'altro Come vi stavo dicendo Lo snakebite È l'arco Più silenzioso Del gioco E difatti C'erano due femmine Dietro E sono ancora Calmissime Ora non erano Troppo vicine Ma comunque Sono ancora calme Anche se Quella non so come mai Ogni tanto Gli sa trattare Così a caso È un po' impazzita E tra l'altro Stavo dicendo appunto Ha un punteggio Non troppo elevato Perché è un 6x6 E possono arrivare Fino a 8 punte Per parte E Questo cervo È fantastico Perché Ha punte Molto alte E Una Larghezza del palco Abbastanza buona Ed è un peccato Che non abbia avuto Anche solo Due punte in più Perché Gli avrebbe Aumentato Di tantissimo Comunque Il punteggio Quindi sarà Probabilmente Un 160 E Il che non è male E Sono un po' strane Ste femmine Ma comunque Ho trovato anche Un'altra traccia Di Un'altra coda bianca Di peso massimo Quindi Non è lui E devo Ancora provare A seguirlo Quindi Confermiamoci Intanto Questo maschio Mentre che le femmine Arrivano O Magari possiamo aspettare E fare una foto Qui abbiamo La prima femmina E Non è stato un colpo A doppio polmone Quindi farà un po' di strada Ma comunque Un colpo vitale Probabilmente Ho ucciso Anche un'altra femmina Prima E Quindi Confermiamoci Questo maschio Diamo il punteggio 162 Infatti Che è un peccato Perché è enorme Per avere 6 punte Per parte Se Avesse avuto Le altre 2 punte Da entrambe le parti Avremmo aggiunto Tranquillamente 40 punti E quindi Sarebbe stato Un 200 E Il Coda bianca Che vogliamo trovare Noi Per avere Effettivamente Un 200 Di punteggio Deve essere Come questo Ma Con Due punte Per parte In più Quindi deve essere Un 8x8 Comunque Un ottimo cervo Devo dire Veramente Fantastico Come prima coda bianca E ho visto Tra l'altro Che Gli unici 200 Che sono stati presi Al momento Li hanno presi Tutti In questa zona Della mappa Proprio qui In logger's point Quindi magari C'è qualcosa Che Fa Comparire Dei ceri più grossi In questa parte Della mappa E Non lo so Ma Lì abbiamo un altro Cervo Non so Penso una femmina E direi proprio Che la possiamo Lasciarla stare E questa qua È l'ultima femmina Che ci rimane Da confermare E tra l'altro Adesso che ci penso Effettivamente Anche il peso massimo Che ho trovato È sempre In questa zona qua Quindi Aver trovato Un 6x6 Enorme E un Un altro peso massimo In questa zona Secondo me Che è qualcosa Che effettivamente Influenza La comparsa Degli animali In questo punto Della mappa E tra l'altro Adesso che ci penso Un altro Un altro Animale Molto grosso Che ho preso qua Un altro coda bianca Un non tip L'ho preso effettivamente Sempre in questa parte Della mappa Però in multiplayer In un server Che non era mio E quindi penso Che effettivamente qua È una zona Che da tenere d'occhio Perché secondo me C'è qualcosa Che influenza Lo spawn Ora Proviamo a seguirci A questo altro peso massimo E vediamo Cosa c'è di interessante E qua abbiamo Un altro maschio Di quella bianca Non molto grosso Stavolta E un altro 6x6 Ma è molto più piccolo Dell'altro E si può Ovviamente notare Dalla larghezza E soprattutto Dall'altezza Delle punte E soprattutto Anche E anche Dallo spessore Del palco Perché come vedete È molto più sottile Dell'altro Sarà un 120 Penso 110 120 Perfetto Quindi un altro Ottimo cervo Ma Non è ancora Il nostro peso massimo Che stavo effettivamente Ancora seguendo Quindi Continuo La mia ricerca Quindi Ci sono Delle buone E cattive notizie Una di quelle buone È che ci sono Due pesi massimi Di cervo D'acqua da bianca Quella brutta È che questo È uno dei due Quindi Non è Molto grosso Direi che possiamo Provare a prenderlo Con il fucile Il 243 Semplicemente Perché L'ho appena Fatto scappare Quindi penso Sia allertato Non mi è sembrato Un colpo Proprio Così buono In realtà Purtroppo Ho sparato Un po' Troppo In ritardo E Quindi Non so se In realtà Morirà Andiamo a vedere La traccia Nel caso La lasciamo andare Quindi Decisamente Un colpo Non vitale E Diciamo che La lasciamo andare Tanto non mi interessa Seguire Un cervo Di queste dimensioni E proviamo a seguire L'altro peso massimo Quindi Non so in realtà Dove sia finito L'ultimo maschio Di peso massimo Perché ormai Da un po' Che lo sto seguendo Ma Ha tracce dovunque E Sono tutte veche Quindi non si capisce La direzione In cui è andato E ormai Da un bel po' Di tempo Che lo sto seguendo E Quindi direi Che Per questo primo video Qua Alla ricerca Di un cervo Da coda bianca Da 200 di punteggio Ci possiamo fermare qui Io ragazzi Spero che vi sia piaciuto Come sempre Commentate e scrivete Noi ragazzi Ci vediamo Ciao Ciao